Il presidente dell'Associazione Provinciale di Caltanissetta della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, Aldo Amico, ha fatto sapere, attraverso un comunicato, che esiste la possibilità di effettuare un esame ecocolordoppler gratuito per prevenire la trombosi venosa paraneoplastica nei pazienti oncologici. In realtà sarebbe opportuno, dopo i 50 anni di età, sottoporsi all'esame ecodoppler venoso degli arti per prevenire le patologie associate, soprattutto in presenza di fattori di rischio, come fumo, diabete, ipertensione o ipercolesterolemia. L'esame non è invasivo e non presenta alcun tipo di controindicazione. Si tratta di un'ecografia a colori rosso e blu dei flussi venosi e arteriosi, con cui si analizza la struttura e la funzionalità dei vasi sanguigni, evidenziandone anche le più piccole lesioni delle pareti. L'ecocolordoppler è molto utile per studiare e monitorare le principali patologie vascolari, come stenosi arteriose e venose, aneurismi, trombosi e insufficienze venose, oppure per individuare le placche che ostruiscono il flusso sanguigno e possono provocare trombi. Nel caso di pazienti oncologici, l'esame ecodoppler venoso costituisce uno strumento di prevenzione e gestione, poiché purtroppo, in molti casi associato alla malattia, si sviluppa il rischio di complicanze gravi e potenzialmente letali, come le trombosi venose profonde e l'embolia polmonare. Ciò può avvenire a causa del tumore o dell'infiammazione sistemica, o ancora per i trattamenti sanitari di cui si necessita, come la presenza di cateteri venosi centrali e la chemioterapia. Con questo esame si può valutare precocemente il rischio individuale di trombosi nei pazienti oncologici ad alto rischio ed in quelli che manifestano segnali o sintomi che possono essere associati a trombosi venose profonde, come gonfiore, dolore o arrossamento degli arti inferiori. Il medico Maurizio Alletto spiega che la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo delle trombosi venose profonde sono cruciali per prevenire complicanze come l'embolia polmonare. In generale, l'esame codoppler venoso svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, nella diagnosi e nel monitoraggio delle complicanze trombotiche nei pazienti oncologici, contribuendo a migliorare la gestione clinica di questi pazienti e a ridurre il rischio di eventi tromboembolici fatali. Si può prenotare gratuitamente un esame ecocolordoppler venoso degli arti inferiori o dei tronchi sovraortici compilando l'apposito modulo online sul sito della Lilt di Caltanissetta. In tal modo si verrà contattati da un volontario per concordare l'appuntamento. In alternativa, si può prenotare l'esame chiamando il numero 393 81 10 020.